Buon pomeriggio e benvenuti a questo secondo incontri e incontro di conversazioni su Franco Guerzoni e soprattutto con Franco Guerzoni. È un ciclo di tre conversazioni che scaturiscono poi dalla mostra che è attualmente allestita e che riaprirà appena possibile al Museo del Novecento e saranno moderate da Martina Corniati, curatrice della mostra. Questo pomeriggio il tema archeologia del possibile. Ne parlerà Franco Guerzoni insieme a Davide Ferri. Io trovo che tratteranno davvero forse una delle mie parti preferite dell'opera di Franco, cioè discuteranno sulla genesi del suo percorso artistico a partire proprio dagli anni settanta. Dagli anni settanta che ci riporta ai viaggi randaggi con Luigi Ghirvi, alle frequentazioni di Franco in quel periodo particolarmente così fecondo e interessante che nella sua città vedeva da protagonisti e artisti di grande interesse e di grande profondità. Quindi cercheremo di ricostruire attraverso questa conversazione, questo confronto, le tappe fondamentali del suo percorso artistico appunto relativi a quegli anni. Ricostruendo proprio il paesaggio di riferimento che fa come da trama e da sottofondo ai rapporti, agli intrecci, alle cuciture tra Franco e i suoi amici. Come dicevo, sarà la conversazione tra Franco Guerzoni e Davide Ferri. Davide Ferri è un critico d'arte, è un curatore indipendente, è docente di estetica all'Accademia di Belle Arti di Rimini e di ergonomia delle esposizioni all'estimento degli spazi espositivi all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2012 è curatore della sezione arte del Festival Teatrale Ipercorpo. Collabora come curatore con Arte Fiera a Bologna, con Palazzo dei Toschi, con Banca di Bologna e con la Fondazione Copola di Vicenza. Ha curato moltissime mostre ed è un critico d'arte molto sensibile anche alle tematiche toccate da Franco in quegli anni e che quindi saprà sicuramente intrecciare con lui un ragionamento e un confronto che ci riporterà in quei paesaggi degli anni 70. Grazie, ora passo la parola a Martina Corniati. Grazie mille ad Anna Maria Montaldo, il direttore del Museo del Novecento, grazie a Franco Guerzoni e Davide Ferri. Noi siamo qui per parlare di una bella addormentata chiusa in una vara di cristallo, forse l'avevo detta anche l'altra volta, e cioè la mostra, l'immagine sottratta di Franco Guerzoni allestita al Museo del Novecento che io spero con tutto il cuore si possa rivedere il prima possibile. Una mostra che per precisa volontà dell'autore mette in dialogo le opere, alcune opere, alcuni momenti fondamentali e fondanti del suo lavoro delle origini negli anni 70 con l'ultimo decennio, in un percorso che non contrappone pittura a non pittura, a fotografia e istanze performative sperimentali che connotano quel periodo a cui Anna Maria Montaldo faceva riferimento con tanta precisione in fondo, un periodo di incontri, di sperimentazioni, di ricerche, di aperture, di dialogo, di scontro, di antagonismi e via dicendo, a un periodo invece in cui l'immagine non si fissa, perché nel lavoro di Franco Guerzoni l'immagine non si fissa, ma si fissa una tecnica, si fissa una modalità, si fissa un'intenzione che nella mostra abbiamo definito in negativo sottrazione o comunque sia vogliamo dire archeologia, archeologia di un qualche cosa che sta sotto, che ha a che fare con l'autore, ha a che fare con noi, ha a che fare con uno sguardo che non può più forse in quest'epoca storica nostra essere completo, obiettivo, universale, ma che invece si scontra con la propria relatività, con le proprie incertezze, con le proprie impossibilità, con il proprio tempo e il proprio presente, forse anche in senso più propriamente umano. Grazie a Franco Guerzoni ancora che è qui anche questa sera, oggi è il 31 marzo, ci rivedremo il 15 aprile e poi mi auguro che ci rivedremo, come si dice ora, in presenza intorno ai suoi quadri, intorno al suo lavoro al Museo del Novecento di Milano. Grazie mille a Davide Ferri che partecipa con noi all'incontro di stasera e di cui voglio ricordare già un passaggio fondamentale accanto a Franco Guerzoni esattamente sette anni fa, alla triennale sempre di Milano, quando Davide Ferri riesplorò come curatore, come accompagnatore, quelle prime opere, quelle prime passeggiate o per lustrazioni condotte da Franco con Luigi Ghirri nei primi anni 70. fu allora la prima volta o una delle primissime volte in cui queste opere, quasi opere, mezze opere, irrisolti, sono stati chiamati in questa mostra, sono stati presentati al pubblico ancora una volta nella città di Milano. Grazie mille a Davide Ferri a cui do la parola e grazie a Franco Guerzoni. Allora grazie a tutti, grazie a tutti per l'invito, buonasera a tutti, per me ogni occasione di dialogo con Franco Guerzoni è preziosa e devo dire che negli anni sono state, per fortuna, frequenti le possibilità di scambio e di incontro con Franco pubbliche, però per me sono preziose anche le telefonate che hanno una cadenza, direi bisettimanale, no? E allora piacerebbe in qualche modo, idealmente, che questo dialogo di oggi anche un po' somigliasse a una delle nostre telefonate, avesse la stessa vitalità o spontaneità o naturalezza. Devo dire che sento anche una difficoltà che è legata al fatto che, non solo che non vedo le facce delle persone che mi ascoltano, però questa è la condizione del presente, ma è legata al fatto che la mostra l'ho vista già diversi mesi fa, per cui ho un ricordo frammentario della bellissima mostra di Franco al Museo del Novecento. In questi giorni ho spogliato e rispogliato il catalogo della mostra che ho qui tra le mani. Il catalogo, devo dirlo, a questi due, e lo dico non in maniera gratuita, lo dico perché proprio ne sono convinto, perché ho letto tante cose scritte su Franco, per cui a questi due bellissimi interventi di Martina Corgnati e di Adele Ghirri. Ovviamente recuperando il ricordo della mostra e sfogliando il catalogo non posso non osservare che questa mostra è in qualche modo tenuta insieme da due momenti del lavoro di Franco. Uno è il presente, e una serie di lavori realizzati direi nell'ultimo decennio, che si chiamano archeologia senza restauro, strappi da fresco, i paesaggi in polvere, le stanze e poi anche questo lavoro che io reputo molto importante, che si chiama intravedere, dove l'immagine è in qualche modo nascosta, conservata come una specie di cifra segreta nelle pieghe materiali del dipinto, mi verrebbe da dire, in una specie di dentro o di sotto, un dentro e sotto che è coperto da una superficie che è muro, che è parete, un dentro sotto che chiama lo spettatore a dei movimenti attorno all'opera per cercare di percepire questa immagine che però non si percepisce, non si risolve. E dicevo è tenuta insieme dal presente di Franco, cioè dalle opere dell'ultimo decennio su per giù, e invece le opere degli initti degli anni 70, questi lavori che derivano da quel percorso che Franco Guerzoni, come abbiamente anticipato, fa assieme a Luigi Ghirri. Io coinvolgerei subito Franco, perché questa è una cosa che io, come dire, avendo seguito, dopo torno a questo momento, torno agli anni 70 naturalmente e torno proprio a quel paesaggio di cui mi va molto di parlare in questa conversazione, però la prima cosa che mi viene da chiedere a Franco è una cosa che ricorre nelle sue mostre da qualche anno a questa parte, e cioè che mi sembra che lui abbia accolto pienamente l'idea, perché molte cose realizzate negli anni 70 in qualche modo, non dico che erano dimenticate, però alcune di queste sono state dimenticate o dimenticate a memoria, come dice Franco, mentre invece vedo che le mostre di Franco degli ultimi anni mettono in dialogo quel tempo, cioè il tempo degli esordi, con il presente. È una domanda, come dire, che forse richiede anche una risposta sin troppo breve o solamente una conferma da parte tua, Franco, ti chiedo se è così effettivamente, che quello che hai costruito in termini proprio di mostra negli ultimi anni ha proprio questa caratteristica di mettere insieme e far dialogare le due estremità del tuo lavoro. Dunque, sì, 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 è un'intenzione che pratico da un po', tu ne sei a conoscenza perché sei stato anche artefice di alcune di queste presentazioni e di queste mostre. Sicuramente mi sono pacificato con quel tempo perché quando si parla degli anni 70 o quando parlo degli anni 70, oggi, mi appare la mia figura piccola e mi fa un'enorme tenerezza. Non ho né orgoglio, non ho, come dire, non penso alla genialità delle cose che ho fatto, ma mi stimola veramente un aspetto di quasi un filo di nostalgia, non una vera nostalgia, perché gli anni 70 sono stati anni di combattimento, anni anche di grandi asperità e poi quando spesso dico l'uso della fotografia si è finito in realtà ho sentito un lutto, un lutto che ho riposto nei cassetti trovando una strada nuova, nuova, vecchia, ingresso alla pittura e in qualche modo sapevo d'avere questo giacimento, anche quando abbiamo fatto la mostra alla GAM di Torino con la cura del professor Castagnoli e quando abbiamo fatto anche la mostra triennale, io ho rivisto le fotografie, ho rivisto i lavori che facevo, ma li ho rivisti senza asperità, senza nessuna. Ho visto questo, ho visto il cervello di un giovane agitato che cercava una strada e tutte queste piccole foto che poi spesso sono progetti di grandi lavori mai realizzati, oppure grandi lavori realizzati per avere una fotografia, poi magari abbattuti come certe aie campestri realizzate appunto negli anni 70, fotografate in modo compulsivo da Ghirri in centinaia di scatti. Questi scatti fino a un decennio fa mi davano un senso di sconfitta e poi il tempo si vede che crea questa nostalgia per ciò che si sta perdendo, credo che i saggi dicano questo e credo che sia davvero veritiero e queste fotografie le ho riviste con col sorriso. Oggi le guardo e sorrido, cioè sorrido perché vedo la deambulazione di un giovane artista in mezzo ad altri artisti, poeti, registi che cercano una strada, che cercano ad affermare anche con una cecità rispetto a quello che hanno intorno, intraprendono, diciamo, formano un piccolo sentiero che poi si dirama in mille altri sentieri, ma certamente diciamo l'aspetto è quello, non c'è più sconfitta. Franco ti interrompo un attimo perché sono anticipi a alcune delle questioni che voglio sporgerti nelle domande successive. Quello che volevo dirti è questo, che queste foto di cui parli, che sono precedenti, sia ben chiaro a queste serie che sono in realtà lavori compiuti, cioè dentro l'immagine, gli affreschi, l'archeologia, queste immagini di cui stavi parlando sono riunite, allora il mio occhio subito è andato su questa doppia pagina bellissima del catalogo, che adesso è brutto mostrare così, ma solo per darvi un'impressione, che un pochino le contiene tutte, le contiene tutte come se fossero fotografie sparpagliate su un ripiano, quindi in una forma non organica, disorganica, impilate, si intravedono delle cose, allora ovviamente il baricentro di questa discussione sono in parte, in parte sono queste immagini, e queste immagini mi riportano, appunto come anticipato prima, mi riportano a quel tempo in cui, non in quel tempo, perché non ti ho conosciuto in quel tempo, ma quel tempo della mostra intriennale, dove abbiamo lavorato su queste immagini. E se guardo questa specie di composizione disorganica, io riconosco effettivamente quelle cose di cui tu parlavi prima, vedo gli scatti di Ghirri, per la più parte in bianco e nero, anche se Ghirri scattava anche a colori, e questo creava anche una forma di conflitto fra voi, perché tu avresti voluto soltanto foto in bianco e nero, invece negli stessi anni lui scopriva il colore ed era sedotto dal colore. Vedo le vostre ossessioni, le vostre insistenze, quelle cose che andavate a cercare nella campagna tra Modena e Mantova, e cosa andavate a cercare? Beh, innanzitutto andavate a cercare delle rovine, quindi ci sono molte immagini di rovine, intravedo le immagini di questi casotti, che sono queste strane architetture, anche un pochino provvisorie nel paesaggio, sono casotti per attrezzi, come quelle che ci sono nella campagna. Vedo in queste immagini, vedo foto che invece documentano, beh, muri, molti muri, naturalmente, poi foto che documentano cose che sembrano tentativi, esperimenti, tante volte abbiamo chiamato in causa, abbiamo evocato questo pavimento componibile portatile, questo pavimento da viaggio, no? Noi amichevolmente lo abbiamo chiamato un Karl Andre portatile, no? E poi vedo, vedo ancora, poi ci sono alcune cose che tu hai, non so se volutamente eliminato da questa selezione di immagini, ad esempio, dopo magari condivido lo schermo e mostriamo alcune delle immagini di cui stiamo parlando, forse lo dovrei fare subito, ecco qua, allora, e poi dicevo alcune cose che tu hai, allora, volutamente, beh, facciamo così, vado un attimo indietro, adesso credo che voi possiate vedere il mio schermo, Franco, tu lo vedi? Sì, questa è una foto, io comincio sempre, tu lo sai, le nostre conversazioni da questa immagine, se vuoi risolviamo la faccenda in poche parole, perché questo è uno scatto che vede proprio Luigi Ghirri, no? Vicino a casa sua, con l'auto che era l'auto che usavate per queste esplorazioni nella campagna attorno a Modena o tra Modena e Mantua, senti, rievochiamolo un'altra volta, dopo torniamo su questa composizione di foto, come hai conosciuto Luigi Ghirri e come è cominciato il vostro rapporto? Ma guarda, con Luigi ci siamo conosciuti a uno studio, con lui abbiamo, diciamo, condiviso la stessa strada, cioè la casa che vedi, la casa oltre quella, era la casa dove abitavo io, quindi eravamo vicinissimi di casa in via Mantegna, ma ci siamo conosciuti perché lui era geometra in una grande impresa modenese, mi sembra che si chiamasse delizionale 70 e tu vedi da questa foto, questa foto che è una foto mia neanche tanto bella, io con la fotografia non ho un buonissimo rapporto, sarà stato perché ho avuto vicino fotografi e artisti che hanno con la macchina fotografica davvero avuto un grande rapporto, penso a lui, penso a Franco Baccari e ad altri che usavano, ma questa foto però ha un contenuto sentimentale altissimo, un po' perché l'ho fatta io e sono in un tempo in cui non ci piaceva essere fotografati, non piaceva né a me né a Luigi e neanche altri amici, tant'è vero che guardando questi cassetti di fotografie e l'immagine del catalogo che tu presentavi prima è in realtà alla volontà di raccontare il disordine di immagini che escono da un cassetto, ha però la forza di raccontare questa figurina che è Luigi in una dimensione secondo me che è sorridente, c'è la 500 che era la macchina che avevo anch'io allora, c'è questa casa che lui ha abitato, che aveva acquistato con un mutuo con la quale viveva con la moglie Anna e la figlia Ilaria, devo dire restituisce, mi dispiace ad esempio di non avere fotografie di tante foto, fotografie di persone, di amici artisti, di lui e di me ad esempio, pochissime foto, ce n'è una che compare nel catalogo schirà della mostra del Museo del Novecento che è interessante e fa la stessa tenerezza di questa ed è una foto che Luigi mi ha scattato e sembra il principe di Galles proprio sotto l'androne che lui ha dietro alla sua figurina. Ecco, questa è la foto, oggi vorrei possedere, vorrei averne di più, riguardarle ed è un atteggiamento che non ho mai avuto quella foto, intanto non sono un esperto di fotografia, le foto che ho fatto sono pochissime, anche oggi col telefonino ho un imbarazzo nello scatto, mi vengano sempre mosse, ci sarà qualcosa, è Luigi che si sta arrabbiando perché io non so fotografare, mi manda questi messaggi, queste vibrazioni, ma sì, diciamo, ma la ringhiera restituisce, restituisco alle pietre del muro, ha tutto un senso questa fotografia che è stata scattata per caso e devo dire questa sua e la mia che ha scattato lui forse sono tra le due poche immagini che io conservo di lui e di me, di quegli anni. Guardi i calzoni, non so, la borsa nella quale forse ha i progetti, piccoli progetti, lui lavorava su piccoli progetti, aveva un tecnigrafo che sarà stato 30 cm per 40, dove elaborava con la sua penna questi progettini che per questa grande impresa, poi abbiamo con lui condiviso esperienze fallimentari che oggi fanno davvero ridere, studi di grafica pubblicitaria dove lui era il fotografo addetto a fotografare i prodotti, io facevo il grafico e una terza persona, c'erano altre persone, ma in particolare mi piace ricordare Giulio Bizzarri, pensa al cognome anche, che purtroppo ci ha lasciato di recente ed era il nostro amico proprio fraterno ed era quello che cercava, portava qualche lavoro a me, a lui che era attivo all'arte col quale potevamo guadagnare qualcosa. Ti dico una cosa sorridente che non è la foto, ma me la stimola questa foto, Giulio Bizzarri per dirti come eravamo serissimi nella ricerca artistica, sul lavoro professionale devo dire sì, e prevaliva il sorriso. Giulio Bizzarri fu l'inventore di un progetto che a me lui faceva molto sorridere, ma siccome abito la città delle figurine panini, Giulio Bizzarri pensò allora, per quegli anni o immediatamente dopo, di fare un album di figurine degli artisti, e io e Ghirri ridevamo perché pensavamo che Duchamp potesse essere la figurina introvabile dell'album e Bizzarri seriamente la portò, credo a Panini, che naturalmente non comprese, dato il successo che aveva con i calciatori, fare gli artisti non gli andava bene. Ecco questo per dirti che nei nostri rapporti c'erano dialoghi serrati sui progetti serissimi, però interrotti sempre dal sorriso e Giulio Bizzarri, che poi è l'inventore dell'università del progetto di Reggio, che è stata una scuola di ironia, era la persona che da surrealista che era ci faceva sorridere anche quando noi eravamo molto seri. Non so se ti ho risposto. Mi hai risposto e volevo stare ancora su Ghirri per un'altra osservazione. Tu racconti spessissimo che vi siete incontrati in un momento simile per entrambi, però eravate in situazioni molto diverse, con un lavoro, con una famiglia. Tutti e due provenivate in realtà da due formazioni non ufficiali, in qualche modo, o comunque stavate scoprendo delle cose al di fuori delle scuole e delle accademie, certamente. L'altra cosa che però mi interesserebbe, perché il vostro rapporto si svolgeva tra queste lunghissime conversazioni notturne, tu dici spesso che queste conversazioni notturne avevano un inizio incerto, una parte centrale con molti entusiasmi e una fine altrettanto incerta, che è una frase che riassume tantissime cose di te e tu la usi per descrivere soprattutto quelle conversazioni con Ghirri. E poi l'altra cosa che faceva parte di questa vostra amicizia e complicità, erano quindi le conversazioni, la scoperta di alcune cose probabilmente che avvenivano proprio in quegli anni e queste esplorazioni, che erano proprio viaggi e randaggi come tu le hai chiamati, però poi c'era anche, come dire, nasceva in entrambi la consapevolezza di una poetica. Allora ti volevo chiedere, da una parte i lavori di Ghirri, i cicli di Ghirri arrivano di lì a pochi anni in realtà, sono in quegli anni, e invece da parte tua tu cominciavi appunto a sviluppare i primi lavori prendendo, diciamo così, in prestito, ma in realtà appropriandoti delle foto di Ghirri. Volevo sapere come si svolgeva il vostro rapporto, come reagiva Ghirri al fatto che tu prendevi immagini scattate da lui. Dunque, guarda, la domanda è abbastanza complessa, però provo a risponderti a tono. Dunque, intanto va detta una cosa, che Modena, quella Modena che tu vedi in un frammentino, non è la foto in cui compare Ghirri, è una città in quegli anni ricca di artisti, di poeti, di studiosi, ed è attraversata da moltissime personalità dell'arte che in questo terreno dissodato già negli anni 70 dal gruppo d'artisti tutti prestigiosi della città, diciamo portavano una ventata di voglia di nuovo e anche un grande supporto, un grande incoraggiamento. Io credo che questo lo sentisse anche Luigi stando vicino a noi. Ecco, ti potrei dire che noi abbiamo posseduto con Luigi una macchina fotografica acquistata metà per uno, una Canon, credo fosse una Canon FT, e questa è una delle, come dire, proprio uno degli agganci, però la macchina fotografica lo usava soprattutto lui e credo sia stata una buona cosa. Io ti dirò che ero molto influenzato, direi anche con febbri altissime, dall'arte italiana di ricerca, ma anche quasi colpito da le esperienze americane, ad esempio dell'arte minimale o dell'arte concettuale, e in qualche modo, come dirti, questo tipo di massaggio, chiamiamolo così, questo tipo di influenza che arrivava, forse non avevo la forza di prenderla e di farmi accarezzare e poi, come dire, andare anche in un'altrove, la sentivo fortissima. Quindi con Luigi il fatto di utilizzare una mano esterna per catturare delle fotografie in luoghi abbandonati mi dava anche una sciocca felicità come delegare a Luigi le foto che io volevo, ma siccome la foto poi negli anni ci siamo resi conto che non è innocente, in molte foto di Luigi c'è Luigi, c'è questa sua sensibilità. La sensibilità di Luigi a me non è che interessasse molto, io volevo delle foto parietali, mi piacevano le foto fredde, ad esempio lui di freddo non c'aveva nulla, neanche d'inverno, credo di aver detto una volta, era una persona, come dire, molto gentile e molto affettuoso. Quindi gli scatti che faceva… Diciamo che quel tono lirico che tu hai sempre riconosciuto nel suo lavoro era presente anche in quegli anni. Sì, sì, credo di sì, perché guarda lui, io ricordo, guardando qualche piccolo catalogo degli anni 70, proprio delle brussure, anche di una mostra fatta con altri amici artisti modenesi a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, noi mettevamo l'indicazione della foto di Ghirri o se erano scatti o sequenze di Franco Vaccari, perché questo onorava, dava un onore, quindi non è che Luigi oggi è una figura, come dire, la sua fotografia è planetaria, è amatissimo, è amata la sua poetica, ma anche allora, come dire, ci mettevamo questo cappello, come dire, abbiamo fatto questa brussure, ma le foto sono di Luigi o sono di altri fotografi e questo ci dava anche un po' di, come dire, un po' di, una strana eleganza, un qualcosa che, sì, non so come dirti, però rivedendo, non è perché Luigi oggi è, come dire, un fotografo molto riconosciuto, era amato anche allora per quello che era, cioè una persona alla ricerca, perché le foto faceva lui, che faceva spesso intorno a quella casa lì, ed è interessante, secondo me, anche il primo lavoro, perché sembra quasi che abbia camminato intorno alla sua casa, quelle, quelle foto che presentano ad esempio edifici che sono magari realizzate da piccole artigiane o da persone che avevano avuto un po' di fortuna in quegli anni e che mettevano nel giardino un pozzo che aveva una vaghezza cinquecentesca oppure usavano il mattone perché il mattone portava a un ottocento. Lui era incuriosito da questo rapporto che era quasi un ingresso nel kitsch, cioè un po' prima del kitsch, diciamo. Quindi questa fotografia era rispettata da noi. L'unico motivo delle grandi discussioni era la foto a colori, perché la foto a colori non era compresa dagli artisti che usavano la foto, doveva essere bianca e nera la fotografia. E i maestri di allora, penso a Vincenzo Agnetti, che era sempre bianca e nera perché doveva avere una pil, non doveva essere troppo dichiarato il soggetto, troppo ricco di forma, doveva essere bloccato. E quella era un po' anche la mia volontà. Cioè portavo Luigi, lui faceva scatti magari molto agitati e io dopo magari assistevo con lui perché raddrizzasse la macchina, tieni conto che poi non c'era nessuno strumento, non c'erano luci, non c'era niente. Quindi le foto erano... e spesso le foto brutte di Luigi era quella che mi piaceva di più. Ad esempio le foto a colori solarizzate, perché non avevamo... le case erano buie, i muri... e queste delle impie invece sono rovine. Se ti vale passiamo sempre, no? Queste sono quelle cose che ci sono in questa doppia pagina, poi alcune di quelle che ho selezionato invece non ci sono. Non so se hai scelto alcune cose piuttosto che altre per delle ragioni particolari. Però qui certamente questo è una, come dire, un tema ricorrente del... è proprio un prodo ricorrente dei vostri viaggi. E sono le rovine, le rovine di queste case abbandonate, rovine in cui tu dici spesso voi proiettavate un passato anche molto remoto, per cui era come incontrare delle rovine che appartenevano alla classicità e mi sembra che attorno a queste rovine si sia in qualche modo strutturata anche la tua idea di rovina. A volte ne parli citando Marco G, però mi sembra che quell'esperienza, quegli incontri siano stati per te molto importanti. E di foto di rovine, di immagini di rovine ce ne sono tantissimi. E poi qui sono questi casotti, no? di cui parlavo prima, queste architetture provvisorie, mi viene da chiamarle, che segnano la campagna, appunto. E poi invece, ecco, qui facevo riferimento, questa appare proprio così com'è anche in questa doppia pagina, a questo pavimento, a questo carlandre da viaggio portatile. In alcune immagini addirittura, come in questo caso, si vede la portiera della Cinquecento, qualche volta, qualche volta quasi per sbaglio, no? Tu appari nelle fotografie mentre sistemi questo pavimento che è fotografato in luoghi diversi. Qui, da un certo punto di vista, è una forma, dico, anche immediata, si sente quell'influenza che arriva dall'America e che tu trasformi e riporti dentro, appunto, questa esperienza in comune con Luigi Ghirri. E poi ancora, queste lei invece le ha escluse, non so perché, queste sono delle pozze d'acqua, no? Realizzate con specchio e neon, se non sbaglio. Anche queste hanno proprio la stessa caratteristica, sono opere che si muovono nel paesaggio e che vengono fotografate in contesti diversi. Anche se forse c'è un'immagine di queste pozze d'acqua, perché un altro dei luoghi dell'amicizia e del rapporto fra te e Ghirri era il prato che confinava o stava tra la tua casa e la sua casa, se non sbaglio, no? Sì, quello che poi diventò il Parco Amendola, sì, che diventò un parco oggi pubblico, molto frequentato, ma era un enorme campo verde sul quale abbiamo… è stata la nostra palestra, diciamo, di… è stata la nostra palestra di formazione, questo enorme prato. Ad avanti è questa veloce carrellata giusto per dare l'idea di qual è proprio il sapore di questa doppia pagina e di quegli anni. Sono azioni anche improvvisate, no? Sì, perché spesso sono foto di progetto. Questa ad esempio è una foto curiosa. Tu devi immaginare che dalla parte opposta a questa foto c'è Luigi che ride, perché lui rideva sempre. Quando io facevo queste cose che erano buttare questa specie di enorme coperta da una finestra abbandonata, che poi come progetto era quello di fare un pavimento imbottito, che poi ho anche fatto, ho realizzato, in una galleria fiorentina, lui rideva sempre. Quindi progetto serio di sera e di giorno rideva. E devo dire che rido anche io oggi, anche a me fa sorridere. E vado avanti, fin termino la carrella. Beh, questa è quella, è quell'immagine. Questa è fortemente imbarazzante. Scusami Franco, allora vado veloce. No, 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 ma fortemente imbarazzante. Cioè la guardo sorridendo, ma questa qua non sono ancora riuscito a guardarla proprio con tutto il sorriso possibile. È curioso, perché questo, guarda, mi aveva convinto di questo spazio che è vicino praticamente alla strada che tu prendi per Campo Gagliano. È una C fatta di pioppi, è un parco di una villa, mi sembra che si chiami Malavasi, questa villa, che è stata sostanzialmente interrotta da una strada che passa tra la villa e questo parco. E sembrava un teatro e tutte le volte che passavo la guardavo, perché questa C di alberi così netta, così scandita, mi faceva venire in mente, cercavo qualcosa da poter realizzare dentro questo teatro. E con Luigi parliamo moltissimo sul tema del, ad esempio, di che animale poteva attraversare questo spazio. Quindi da… questo è veramente molto divertente, mi fa molto ridere. Allora mi affittai, dopo lunghe discussioni, il cane, il gatto, gli animali da cortile, l'attenzione cadde invece sull'orso e andai in un negozio che affittava costumi per i balli in maschera e presi questo abito da orso. Poi io cercavo, Luigi avrà scattato su questo lavoro almeno 100 immagini, il minimo, in tutte le posizioni sdraiate. E lui sorrideva, anch'io sorridevo, ma io avevo la maschera non si vedeva. Questo per dirti che gli spostamenti di quel tempo da un tentativo performativo a uno più concettuale dovrebbero restituire lo stato, diciamo, di imbarazzo, di approccio con l'arte del tuo tempo, che avviene attraverso l'imitazione, perché la parola imitazione viene sempre vista in senso negativo, ma è evidente che un giovane artista non può altro che imitare, anzi è bene che imiti. E in qualche modo erano dei tentativi spesso goffi, oggi ti dico, mi fanno sorridere, perché poi c'è mezzo secolo tra noi e questa ingenua performance. Però questa fotografia mi restituisce l'affetto di lui nei miei confronti e il mio nei suoi, perché lui mi accompagnava in cose che oggi capisco essere veramente buffe. E quindi lui mi assecondava, perché forse capiva che io stavo cercando qualcosa e non lo trovava. E quindi l'accompagnamento mi accompagnava attraverso questi che abbiamo definito Viaggi e Randaggi, la mostra che hai curato tu e il libro che accompagnava la mostra alla triennale, in qualche modo queste sono state le ultime che ho sdoganato dai cassetti, queste sono state veramente le ultime. Ci è voluto un po' di tempo per sentirne la tenerezza, ci è voluto tempo, perché erano veramente inquietanti, perché sono gli errori, perché è l'imperfezione sostanzialmente. Quando tu superi questa, e il tempo ci aiuta in questa, quando superi questa barriera, per cui le cose del passato ti appaiono un po' meno sfocate, meno eccessive di quello che ti appariva prima, tutto si srotola come una pellicola, un lungo film di amicizia. Poi noi parliamo di Luigi, ma io vicino avevo tanti artisti bravissimi. Sì, dopo vado un attimo lì, Franco, questa carrellata sottoponendoti proprio anche un po' a una violenza, mi rendo conto, però insomma sono ancora poche immagini, beh questo è un altro esperimento. Questa è la foto in cui io cercavo di confinare le strutture delle pietre di un'aria campestre con dei sassi e c'è una lunghissima sequenza di queste immagini che io trovo belle, questa è la mia manona. Questa è ancora il pallimento, qui siamo già fuori, siamo già usciti da, insomma era una piccola carlata. Abbiamo trovato una strada, qua avevo trovato una strada. Era una piccola carlata. Senti Franco, volevo chiederti questo e io ti interpello sempre su questa questione ogni volta che ne ho l'occasione. Parlare di Ghirri, adesso abbandonerei un attimo la storia della tua amicizia e collaborazione con Ghirri per ampliare un pochino il paesaggio, naturalmente, il campo. Ti interpello sempre su questa questione e per me ha molto a che fare con quegli anni. Sullo sfondo, come hai detto tu prima, di questo rapporto e dei tuoi primi lavori, anche dei tuoi ultimi lavori per la verità, c'è Modena, il paesaggio modenese, l'Emilia, è un paesaggio letterario naturalmente, che ha segnato una parte importante di storia della letteratura degli ultimi 50 anni, la linea, la cosiddetta linea celatiana, di cui parliamo spesso, poi c'è la tua amicizia, il tuo rapporto con Ermanno Cavazzoni e nello stesso tempo anche la fotografia, chiaro, la fotografia che va proprio, la storia della fotografia procede quasi di pari passo con questa linea che appartiene alla letteratura. Anche la musica, recentemente è uscito il libro di Belpoliti che si chiama Pianura, che rievoca in una parte, ma quasi in tutto il libro questo paesaggio e questa atmosfera. Allora io ti volevo chiedere quanto tu senti di appartenere a questo paesaggio, quanto in fondo Modena è una città che tu hai viaggiato molto, ma Modena non l'hai mai abbandonata, per cui volevo chiederti a proposito della tua relazione con questo paesaggio, che ripeto è letterario, è musicale, è legato alla fotografia, quanto ti appartiene e quanto tu appartieni a questo paesaggio Franco? Guarda, di recente questo senso d'artenenza lo sento enormemente di più di quanto lo sentissi allora perché, come dire, anzi, l'idea del campanile era soggetto di combattimento, si parlava di internazionalità, parlo negli anni settanta, non era, come dire, il soggetto d'amore, era lo sento più oggi questa sensazione e poi anche la ricchezza di questo luogo, perché è veramente una città, una piccola città, però una città con degli specifici altissimi, hai detto tu la musica, le automobili, ma c'è una, è veramente, poi questo duomo strepitoso, perché è veramente, Martina sorride perché è anche mediovalista, ma questo duomo strepitoso che ho percorso e non finisco mai di vederlo tutto, è una terra generosa, è un mondo, come dire, è tutto vicino, è che una cosa che sento oggi è tutto vicino, esattamente poi come ieri, perché quando parlavamo dell'abitare di Chiri, voglio dire, Franco Baccari stava a 300 metri di distanza, Claudio Parmigiani a 4G, era tutto vicino e oggi questo, ad esempio, ho la sensazione di aver bisogno di una tipografia che c'è a 100 metri o di un corniciaio che c'è a 40 metri o da Rigoghi che era il grande stampatore delle foto a colori di Ghiri e anche le mie, è esattamente a 100 metri da qua, cioè questo mondo piccolo in realtà forse oggi ha un'importanza ancora maggiore che nel passato, cioè ti senti non tanto l'appartenenza come l'archetipo, diciamo, del piede contadino, perché insomma sostanzialmente questo è un mondo in cui ci sono alcuni difici settecenteschi e poi questo duomo romanico, strepitoso, ma non è che tu abbia, ci sono le sculture del Begarelli, voglio dire, le sculture del Mazzoni, c'è una storia, il Palazzo Ducale, Sassuolo è vicinissimo. Una cosa che è comoda di Modena è che, diciamo, è a un'ora e mezza da Milano e a un'ora da Firenze a tre ore, ma parlo dell'automobile, perché è tre ore da Roma, quindi qualche modo, come dire, io che sono stato anche per lunghi periodi a Milano, dove ho lavorato, però anche Milano poi è fatta di quartieri, cioè sostanzialmente le persone si conoscono per blocchi e della città ho una sensazione buona, diciamo, adesso leggerò il libro che mi suggerivi tu, tu mi hai suggerito alcuni libri strepitoli, anche Martina, ma soprattutto quello che tu hai fatto per me è stato farmi conoscere Bolano, che ho letto e riletto, e consigliato e regalato a tutti. Sì, sai che adesso a me sarebbe divertito molto dedicare, però che volevo segnalare semplicemente che almeno io ho visto, ma potrei sbagliarmi una richiesta di intervento, forse qualcuno vuole fare una domanda e allora lasciamo spazio alle domande e poi dopo riprendo la parola e faccio altre domande a Franco. Grazie Davide, ero io che volevo dire qualche cosa di quello che ha appena detto Franco, dato che mi ha chiamata in causa con Lanfranco e Villigelmo nel suo duomo che io amo profondamente, ma c'è qualcosa di più in quello che ha detto Franco, che riguarda questa città piccola, questa dimensione piccola che riguarda Modena, che riguarda le città emiliane, che riguarda gran parte in realtà delle città italiane e delle realtà italiane e mi sembra un'osservazione straordinariamente pertinente per questi nostri durissimi tempi di Covid, per questo mi permetto l'intervento. Forse è una dimensione che avevamo voluto rimuovere in nome della metropoli, in nome di una dimensione cosmopolita, in fondo omologata, di una New York che non abbiamo ma che ci stavamo cercando di inventare e che di colpo appare in tutta la sua inaccessibilità, impossibilità, scomodità, disumanità. Mentre riscopriamo, voi due poi che condividete l'Emilia, quindi condividete una dimensione straordinaria per chi viene da fuori, profondamente difficile per inserirsi, ma al tempo stesso è profondamente umana, così come è umana Cagliari, come è umana Trieste, come sono umane le città piemontesi piccole. Forse questo è un punto che vale la pena di sottolineare perché questa difficoltà in cui ci siamo trovati di colpo ci ha fatto riscoprire una radice che è una radice anche culturale forte. Come diceva Franco, tutto questo produce un senso delle immagini, dei rapporti da cui l'arte, la sua per esempio, è fiorita, ma non solo la sua, quella di Ghirri, quella degli amici, di Parmigiani, musicisti, tanti artisti che a Modena hanno lavorato e lavorano, non solo negli anni 70, ma anche dopo e prima e oggi, da Lanfranco a Guerzoni. Grazie. Riprendo un attimo il filo di quello che stavo dicendo prima, scusa Martina, ma stiamo lì, stiamo dentro queste cose che hai appena detto. In fondo poi stiamo riflettendo sugli esordi di Franco, per cui spero abbiate previsto almeno due ore di conversazione perché io mi sto divertendo molto, adesso siamo solo all'inizio per quanto mi riguarda. Allora prima hai citato Bolagno, scusa raccolgo la questione Bolagno perché in effetti Bolagno è una delle cose che ci siamo scambiati, uno dei miei consigli a cui tu hai reagito con più entusiasmo. Allora io sospetto che i libri di Bolagno ti siano piaciuti così tanto per via di questa dimensione di inconcludenza che è molto lirica e che ha a che fare con le trame, con i personaggi e che proprio appartiene. Quella cosa che dicevamo prima sull'inizio incerto, scuro, un mezzo diciamo così con molte evoluzioni e una fine altrettanto incerta appartiene proprio, potrebbe essere anche una descrizione di alcuni grandi romanzi di Bolagno. Però siccome stiamo parlando degli esordi, io adesso per uscire anche dalla dimensione del paesaggio modenese e di Ghirri, volevo chiederti questo, un'altra ragione per cui io ho il sospetto che tu abbia amato così tanto Bolagno e che in fondo, come dire, Bolagno deriva in qualche modo da Borges, che in quegli anni, cioè negli anni settanta per te è stata una lettura, tu lo ripeti spesso questo, è stata una lettura fondamentale. Allora ti chiedo se è così, se c'è qualcosa che da Bolagno ti porta o ti riporta a Borges e qual è stata l'influenza di questo enorme scrittore nel tuo lavoro, quando appunto eri giovane esordiente? Ma dunque, guarda, Borges è un autore che ho amato moltissimo, ho letto, io sono un lettore onnivoro, leggo ad esempio, per darti un'idea di cosa leggo io, ho letto di recente Fante, tutto Fante e contemporaneamente ho letto La follia di Alderlin, il libro di Gallimberti su Heidegger, cioè mi muovo, ho come dire, questa specie di apparecchiatura di libri, mi muovo da uno all'altro. Borges è sicuramente uno dei grandi punti fermi, cioè se ci fosse una graduatoria e non va fatta perché è assolutamente sbagliato farne, ma lui è proprio un angelo della letteratura, è una figura immensa. Forse, come dire, lui ha una parola che è sempre talmente colta e talmente comunicativa che sono pochi gli scrittori che hanno questa e il racconto, la narrazione che lui fa spesso, non so, del paesaggio, me la ritrovavo quasi addosso, mi sembrava che parlasse di qualcosa che mi riguardava e mi stimolava a leggere, a studiare ad esempio, sono autori. Poi tu ne parli sempre come, Borges è stato un collante generazionale, me l'hai detto spesso, cioè nel senso che è qualcosa che accomuna molti artisti della tua generazione e anche naturalmente altri scrittori e via dicendo. È così, no Franco? È così, è così. Tra l'altro ecco una cosa che ci riporta alla domanda precedente, ma parlando della ricchezza della città, quindi una città che ha generato tanti artisti, viene anche in mente che si era quasi costretti a essere informati sulla letteratura e la poesia, cioè non potevi avere, era qualcosa che comunicava con l'altro. Quindi la lettura di Joyce, che io ho fatto anche di recente nella traduzione di Celati, che mi ha fatto molto sorridere perché in realtà è un libro di Celati, l'Ulisse di Joyce, in questa traduzione, lo dovevi leggere, cioè bisognava vedere il cinema, bisognava amare il mondo dell'immagine, bisognava davvero dimostrare da Marlo e bisognava possedere certa letteratura per poter comunicare. Quindi sicuramente Borges, ma diciamo sono tanti gli autori, Bulgakov, ma ce ne sono veramente tanti, che hanno tenuto stretto delle amicizie, perché al di là voglio dire del progetto artistico c'erano queste belle, io le ricordo, nelle osterie ad esempio della città o intorno alla città, questi incontri con gli artisti, con i poeti, con gli scrittori, che passavano attraverso il sentimento di ciò che era rimasto di una lettura e magari si andava anche in conflitto, però ascoltavi, crescevi con queste cose. Io credo che c'è stato un tempo in cui si è immaginato che le arti tutte potessero essere annodate insieme, adesso questa è come dire un'aspirazione che credo che non manchi neanche oggi, però quel tempo lì io sentivo tutto molto vicino, cioè guardavo il cinema di Baruchello e Grifi e guardavo per Orson Welles contemporaneamente, mi sono visto tutto il cinema ad esempio nelle sale modenese, che un'altra caratteristica della città è che ha avuto la ricchezza proprio di questo luogo nel quale venivano proiettati il cinema d'avanguardia, ma insomma, io ho visto Carmelo Bene dal vero nella presentazione della sua nostra signora dei Turchi, ma ti potrei intrattenere con tante emozioni che sono poi quelle che hanno costruito, che hanno fatto l'abito dell'artista. L'artista è una figura, artista è una parola anche inquieta, ma insomma diciamo, riferendoci a quegli anni, le influenze sono state sicuramente legate all'arte figurativa, ma anche a tante altre discipline. Penso ad esempio, non so, la verifica incerta di Baruchello e Grifi è stata davvero forgiante anche per me, ma anche il lavoro di Giannetti, ma il lavoro di Franco Vaccare che avevo vicino, che è una persona che condivide l'abilità artistica con un grande pensiero, è un pensatore, quindi ero anche in ascolto, ero più giovane di questi artisti, quindi in qualche modo loro sono stati davvero i miei compagni di strada e la mia accademia è stata quella, più che non quella che avevo abbandonato a Bologna, è stato camminare con loro e a loro devo, e non smetterò mai di dirlo, devo la mia formazione, ed è una formazione che è stata, come dire, è stata condivisa, io spero di aver dato a loro qualcosa che loro hanno dato a me, ma sicuramente a me è andato tanto, è la città anche in fondo e quando tu parlavi di musica mi veniva in mente, perché mi piace qualche volta nelle due domande, c'è un sorriso implicito, sembra quasi che tu voglia che io te la racconto, che ti racconti un episodio buffo, ma ad esempio tu pensa che io e Ghiere, che abitavamo qua dallo studio a 500-400 metri in via Mantegna, venivamo visitati da un pezzo dell'equipo 84, che allora erano il massimo che si poteva avere del beat italiano e arrivavano da noi con questa macchina che credo fosse una Rosroy o una cosa del genere, col bar interno e venivano a vedere cosa facevamo, ed erano di tutti i colori loro, avevano il cappello rosso, i calzoni gialli, erano buffi e una volta mi viene in mente un progetto che è rimasto un progetto, forse per fortuna, che era chiedere a tutti gli amici che avevo la percezione di quello che gli restituiva il mio lavoro e Ceccarelli, che era il chitarrista dell'equipo 84 e il padre di questa brava attrice, Cassandra Ceccarelli, che è stata anche assistente al mio studio, mi guardò e mi disse, guardando un lavoro, mi sembra di averlo già abitato, e questo fu per me una cosa sconvolgente, ma com'è? Uno di questi oggetti mi sembra di averlo già abitato, di averci dormito, cioè qualcosa che diventava quasi l'oggetto una stanza, un ricovero, un qualcosa che aveva, ed era bellissima, perché poi queste persone, io sono stato amico suo e molto anche di Victor Sogliani, questa canzone che, come dire, ha corso, che è arrivata poi a Guccini, a Vasco Rossi, che è un autore che ascolto con molto piacere, che è un, direi quasi un poeta, è una ricchezza che sento molto di più oggi che ieri, allora, come dire, l'equipo 84, questi gruppi musicali che erano coloratissimi, come dire, che vivevano il beat, non era proprio la mia aspirazione, perché in fondo io ho fatto anche ingenuamente una somma, ho sommato l'esperienza dell'arte contemporanea con l'ideologia, quindi facendo una miscela un po' esplosiva, diciamo, in quegli anni, quindi guardavo anche con, le guardavo con simpatia, ma anche con un po' di diffidenza. Un'altra cosa della città che sottenneva la tua domanda di prima è che io ricordo tanti artisti, Reggio ad esempio, c'è la strada che porta Reggio, si chiama Portareggio, e Reggio e Modena sono vicinissime, si potrebbe dire ormai quasi una sola città, e lì ad esempio avevamo amici, penso a Corrado Costa, il poeta, ma sai, ti potrei intrattenere con nomi all'infinito, ma ricordo di questa città due figure che spesso non sono ricordate, quando si parla, ricordo due figure veramente stravaganti, una purtroppo ci ha lasciato, e l'altra è diventato uno dei maggiori galeristi d'Europa, quindi ricordo Carlo Catellani che era, che è stato un grande collezionista anche, come dire, ricco anche di tante fantasie, ed Emilio Mazzoli che attraversavano, quindi io i grandi dipinti, non li vedevo nei musei perché non c'erano i musei, li vedevo a casa loro, io ad esempio ho visto i più bei Cunnellis, i più bei Calzolari, che è comunque uno degli artisti che io cito sempre perché lo ritengo uno dei maggiori italiani, a casa da Mazzoli, da Catellani io ho visto i dipinti americani minimalisti, ho visto Dan Flevin, ma questo io l'ho visto nei primi anni 70, quindi voglio dire, se tu facendo questa, come dire, creando questo grande recipiente, stiamo cercando di circoscrivere un recipiente, con tutte queste figure dentro, capisci che questa città poi in fondo aveva tutto quello che serviva, poi ti dico una galleria civica che è stata un'aspirazione sociale delle giunte anche negli anni 50, quindi come dire, è stata attraversata da tanto e probabilmente oggi che si parla di questo mondo da una prospettiva di mezzo secolo, forse riusciamo a vederlo in tutta, il paesaggio riusciamo a vederlo in tutta la sua ricchezza. E dunque io volevo chiederti un'altra cosa in relazione, allora siccome siamo stretti, no vedo che siamo stretti, non faccio serio, volevo chiederti un'altra cosa a proposito di Man Ray, che per te è una figura molto importante, fra l'altro credo sia anche nelle discussioni con Ghirri fosse anche motivo di conflitto talvolta e è bello perché tu la riporti, questa figura che è una specie di, adesso non voglio esagerare, però è una specie di padre lettivo, di maestro per te in quegli anni è molto importante, la riporti dentro un paesaggio emiliano perché poi il tuo incontro, se non sbaglio, con Man Ray avviene proprio attraverso Dino Gavina in Emilia, però non voglio, salto questa domanda Franco perché se no esauriamo tutto il tempo, ti volevo chiedere questo che invece per me ha molto a che fare con la questione degli esordi e con l'identità, perché in fondo se io ci penso, gli anni a cavallo fra i 70, il decennio 70 e 80 e inizio 80, diciamo così, è segnato da quelle cose che tu chiami svolte, è una parola molto importante per te, tu ne parli in diversi testi, rifletti molto su questa parola svolta e il tuo percorso in quegli anni è segnato, direi da quella svolta di cui tu parlavi prima, cioè l'abbandono della fotografia, l'abbandono della fotografia che passa nella seconda metà degli anni 70 attraverso il disegno con lavori come spie, statue come pietre, pietre come libri e poi le carte da viaggio che sono lì proprio l'approdo, diciamo così alla pittura, ecco tutto questo avviene nel giro di 7-8 anni, però non sono pochi, 5-6 forse, allora riflettevo ultimamente su questo, riflettevo sul rapporto che c'è fra svolta e riconoscibilità, che in fondo è ancora un valore, io credo, è una di quelle cose che riemerge nella testa del pittore, la riconoscibilità come valore, perché la riconoscibilità è l'identità, io adesso non so cosa voglia dire riconoscibilità per un pittore, può voler dire molte cose, però ogni volta che ci penso io penso invece al fascino che arriva dal considerare grandi svolte, ad esempio quella di Philip Gaston, quella di Philip Gaston alla fine degli anni 60, quegli anni 66, 67, 68, 69 poi quindi dall'espressionismo strato alla figurazione, ma anche non so, balla ad esempio, il balla futurista, il balla degli anni 30, cioè allora cosa volevo chiederti in questa domanda che si stava un po' rotolando su se stessa, no, volevo chiederti di riflettere su due cose, sul momento in cui tu senti, in cui tu i senti di prendere la tua identità, in cui tu riconosci la tua identità e su come per te, perché io sento che il tuo lavoro è molto presente anche per via di queste svolte, di questi passaggi, che sono continui in realtà, per cui come dire, ti chiedo anche una riflessione sul rapporto fra, su come si sente, come si percepisce la propria identità nel momento in cui il tuo lavoro e la tua poetica è sottoposta a questi apparenti cambi di direzione, a queste svolte, non so se è chiara la domanda che ti sto ponendo. Adesso mi faccio serio, no, per dirti due cose, una è che io amo gli artisti eclettici e non penso di esserlo, l'altro è che amo moltissimo gli artisti monocromi e di fatti nel museo, nel museo del novecento ci sono due coppie di miei grandissimi amori, uno è Manzoni e Klein che io per loro proprio, li adoro completamente, l'altra è l'altra coppa, ma ce ne sono tante altre, ma te le cito solo due, l'altra è Morandi Licini, ad esempio. Amo moltissimo, anche oggi, guardo con grandissimo interesse all'arte che non si rappresenta, all'arte è un po' fredda, mi piace l'arte fredda, mi piacciono artisti diversissimi da quello che sono io, la coerenza è qualcosa, non mi sono mai posto il problema della coerenza, con sincerità. Credo che la mostra al museo del novecento possa essere letta anche se si occupa di due tempi così lontani, però che racconti di uno stesso interesse, c'è come dire un filo che tiene stretto il primo lavoro all'ultimo e a quello che sto progettando a venire, c'è qualcosa, le tematiche sono quasi sempre le stesse, le svolte sono quando ti accorgi che il lavoro non ti sorride, che la strada viene interrotta, allora tu devi prendere una strada laterale, sei costretto, ma lo fai anche involontariamente, cioè sei costretto a cambiare, però tiene la tua identità, cioè io penso che per una persona anche non è dotta di storia dell'arte o di ricerca, che vede la mostra Museo del novecento, capisci, dall'utilizzo della foto che facevo negli anni settanta, agli ultimi lavori, che c'è un nocciolo identitario, qualcosa che mi appartiene nello specifico e sono magari delle caratteristiche anche, come dire, che potrebbero non sembrare profonde, ad esempio sono molto attratto dalle immagini lavorate, mi piace la polvere, mi piace la polvere sugli oggetti, mi piacciono le… sono molto attratto ad esempio dalle incrostazioni del rame sulle scrutture antiche, sono attratto dal colore del mattone, usi colori in polvere perché li vedo e mi danno felicità guardandoli e poi li mescolo, poi mi invento qualche volta di una piccola alchimia, faccio dei tentativi, quello al quale la domanda, la pertinenza, la risposta dovrebbe essere legata allo snodo tra la fotografia e la pittura che anche quello ragionevolmente non si riesce a comprendere, bisogna essere un po' sciagurato e del resto un po' sciagurato, perché se sente tutto il peso di quello che ha fatto e di quello che ha fatto agli altri, come dire, dare immagine diventa impossibile, perché è proprio impossibile, il peso è enorme, io ti ho citato quelle due coppie, ma quelle due coppie sono enormi e quindi, come dire, ti pesano sul… devi essere un po'… devi stare… ecco la parola, sopra pensiero. Io sto bene quando sono sopra pensiero, quando sono sopra pensiero, non devo decidere io, decide qualcosa che c'è in me, ma che non è, è una volontà di procedere, è qualcosa che appartiene probabilmente all'uomo che cammina, si potrebbe dire che è il camminare, io cammino, cammino e quando trovo un ostacolo provo a evitare all'ostacolo. Lo snodo tra la fotografia e la pittura è stato uno snodo doloroso, ecco perché quando guardavo fino a poco tempo fa l'utilizzo dell'immagine fotografica, mi dava un senso di asperità, di difficoltà, di lutto anche, perché non è stato facile e non è stato indolore. Certo, lì è servito il disegno, il disegno mi ha aiutato in un tempo che sembrava vuoto, è stato anche un tempo di lunghi viaggi, un tempo di abbandono, un tempo anche di vita vissuta un po' pericolosamente, insomma. E poi l'ingresso è stato un ingresso… il disegno mi ha proprio, potremmo dire, salvato, ma non è neanche stata una scelta, era proprio qualcosa che si doveva fare. E riferito all'artista americano che dici tu, che io continuo a guardare sul tuo suggerimento, mi piacciono moltissimo gli artisti. Se io potessi diventare un monocromo… Fabrizio D'Amico, che è stato un grandissimo amico e anche un critico, ha detto tu sei un falso monocromo e questa, l'ha detto sorridendo, mi piacque moltissimo, perché la mia aspirazione sarebbe quello di arrivare lentamente l'immagine a metterla in ombra, occultarla del tutto, sapere che c'è e non vederla. Cioè vedere una superficie che la copre. Il tentativo poi di alcune cose che sono esposte al museo è quello, in quei piccoli lavori, intravvedere che l'immagine si nasconde allo sguardo. C'è l'immagine, non c'è un'immagine strepitosa, ci sono dei bagliori, tu vai a cercare, sei costretto a muovere il collo per andare a vedere dentro le belle vetrine che danno a questi piccoli oggetti una nobiltà quasi antica, sei costretto a muovere perché ti sembra di non vedere. Su Gaston, devo dire, avevi ragione tu. Cioè avevi ragione tu nel senso che è un artista che ho guardato poco, ma è invece un artista estremamente interessante e questi cambi sono tossici. Cioè per fare questi cambi, ma ce ne sono altri di artisti che hanno avuto, beh parliamo ad esempio da un punto di vista teorico di certi minimalisti ad esempio che hanno proprio cambiato completamente. Io li apprezzo moltissimo, questa volontà di, come dire, cambiare campo, rimanendo comunque sempre nello specifico grandi artisti, sono davvero, rimango meravigliato e stupito. Io vorrei, cioè la mia aspirazione, hai capito, è monocromo, non ce la farò mai, ma intanto ci provo. Ci provo. Grazie Franco. Grazie, è stato di grande aiuto. Io con voi parlo sempre molto volentieri. Martina lo sa, lo sa Anna Maria, lo sa Davide che sento spesso e che è una persona che davvero io rispetto molto per anche questo suo modo di guardare dalla strazione alla figurazione, perché lui ha citato Gaston, ma lui ha una personalità, io in un'altra trasmissione che faremo, io potrei fare domande a Davide, perché c'è qualcosa, c'è questo spostamento che è interessante tra un'immagine e l'altra. Poi io rimango curioso anche della pittura più tradizionale, ad esempio un ricordo di infanzia, ne ho pochissimi della primissima infanzia, ma questi pittori che dipingevano il mare nella costa romagnola, con i colori a olio, con le barche, e anche oggi quando vedo chiunque dà immagine ha il mio interesse. Poi naturalmente ho delle preferenze per certi artisti, la Mendieta di cui siamo tutti e due appassionati, sarà pure una persona che è lontana da me, degli anni luce. Carlandra sarà pure lontano, lo so, casi più recenti, Gino De Domenici è un artista che ho conosciuto attraverso questi due collezionisti che ti dicevo, sarò distante anni luce, però avverto il talento, io mi accorgo di sentire la forza anche del lavoro degli altri e questo è confortante, non mi toglie niente. Abbiamo finito perché? Sì, credo che il tempo a nostra disposizione sia terminato. C'è la direttrice che diamo a lei. Sì, credo che dobbiamo concludere, è stato molto interessante, anche appassionante a tratti. Poi davvero è difficile fermare Franco che ha una vita così intensa di incontri, di rapporti, di affetti anche, perché anche questa è una cosa che viene fuori, di sentimento. Quindi io vi ringrazio moltissimo e vi do appuntamento al prossimo incontro che sarà il 15 aprile. e parleremo del lavoro più recente. Chiara Casarin e Elena Forin. Come? Parleremo del lavoro recente. Del lavoro recente. Così abbiamo fatto tre step, insomma, abbiamo coperto le intenzioni della mostra che è stata progettata con voi e ho sempre un enorme piacere. Un enorme piacere a parlarvi. Vi saluto, vi ringrazio tanto. Davide, sei bravissimo. Ringrazio anche io. Grazie a tutti. Ciao Franco e buonasera a tutti. Ciao Martina. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Martina, ciao Davide. Grazie, grazie. Grazie a chi ci ha seguita. Grazie a tutti.